Good morning Milano! Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte, buongiorno anche da Andrea Kerchi qui con me! Buongiorno Fabietto, come stai? Stai bene? Ti sei svegliato bene? Benissimo, svegliato benissimo, svegliato, svegliato appunto, finiamola qua. Ti sei già svegliato quella domanda. Mi sono svegliato, già quella è la notizia. 709, si inizia una puntata di Good Morning Milano, oggi giovedì 22 febbraio e appunto nel bel mezzo della Fashion Week Siamo qui con l'Andreone Nazionale, no, l'Andreone Meneghino, l'Andreone Meneghino, ti piace? No, Nazionale no, dai, Meneghino. La Fashion Week, esatto, questa è una settimana di grande, la Fashion Week viene vista dai milanesi con grande ammirazione perché Milano diventa, già lo è, internazionale, ma diventa... Ma che gli frega ai milanesi della Fashion Week? Aspetta, aspetta, dovevi farmi finire, però la vedono anche con disperazione perché macchine in quarta fila, cioè già sono in doppia fila o in terza fila, però con la Fashion Week sono in quarta e quinta fila parcheggi inesistenti, vuoi girare perché passo da quella via, faccio una scorciatore, track, sfilata di vatte la pesca e quant'altro, quindi i milanesi vivono la Fashion Week in questa maniera qui, ma chi viene da fuori però... Tutti da fuori, quelli che vengono da fuori sono felicissimi, quelli che stanno a Milano un po' meno però ieri vi abbiamo dato la notizia, cioè succede solo quattro volte all'anno, quindi insomma, dai, si riesce a gestire Poi ci sono i fotografi di serie A, io non faccio parte di questa categoria Che sono quelli dentro e poi sono quelli fuori E sono quelli dentro che seguono tutte le sfilate e poi... Ma tu sai cosa sei? Tu sei il nostro diamante e non grezzo come invece dice Clara Clara, diamanti grezzi, fuori onda? Andrea parlavamo di Clara che abbiamo ricordato essere stata la prima a salire La prima sera, ma quella è una responsabilità anche perché di solito la prima sera, l'apertura, quindi anche il primo cantante hanno cifre stratosferiche perché poi gli ascolti vengono spalmati su tutta la serata, però l'apertura del festival di solito arriva a 15-16 milioni di ascoltatori E quindi il primo che canta è stata bravissima tra l'altro Quando sicuramente lei tra i tutti, tra i tanti, era la meno conosciuta Perché c'erano ospiti veramente famosi, però lei ha dimostrato di avere una padronanza del palcoscenico incredibile Mi è piaciuta molto ed è stata una degna partenza Ricordiamo che l'anno scorso a partire c'era Anna Oxa, che è una super deep, una grande signora della musica italiana Una che sui parchi sa starci, insomma, c'è quasi nata 3317853555, il nostro numero di Whatsapp, grazie mille ad Alberto con il suo primo Whatsapp Che dice buongiorno Fabio, buongiorno Cristallini, arriva la pioggia che pulisce l'aria ma che rende difficili gli spostamenti città È complicato vivere a Milano Allora la pioggia, noi ci fanno la battuta da fuori, ci dicono appena con due gocce di pioggia andate in tilt Non è proprio così, però effettivamente si tende più a prendere la macchina e dire no, oggi non vado con i mezzi, vado con la macchina così non mi bagno e così il Corso Buenos Aires te lo fai in un'ora e un quarto Quando d'estate ad agosto te lo fai in due secondi E finalmente dovrei pulire un po' la biancina Un po' di tosse, sarà per questo anche? No, no, non è per lo smog Io ogni anno a gennaio e febbraio mi prendo la mia solita influenza La porto avanti un mesetto La porto in studio anche, benissimo No, ve l'ho portata, infatti ve la lascio anche qui Grazie mille A voi, grazie per avermi invitato Ma tu che sei in giro in questi giorni è un po' irrespirabile quest'anno Io ti dico la verità, io non mi sono mai accorto di questo E quindi quando sento questi dati penso sempre a dove vengono pescati Dove vengono... Intanto vabbè, parto sempre con la prevenzione di dire Sicuramente è un altro attacco a Milano questo, come al solito Perché quando... Allora se Milano fosse stata quindicesima avrebbero fatto di tutto per dire Sì, le 14 città sono tutte in India e poi ci siamo noi, quindi siamo primi C'è sempre un modo di raccontare male Milano Però già dire che quei dati lì, come fanno in India, lo fanno qua, cioè i dati sono gli stessi Il problema è che quando sono usciti i dati tutti hanno gridato allo scandalo Anche fintamente, finti scandali Il problema è che poi questi dati sono stati smentiti nel pomeriggio Sono stati rismentiti la sera e il giorno dopo ne apparivano altri E quindi i giornali titolavano già in maniera diversa E fra le più inquinate Infatti, guarda, il Corriere della Sera Milano proprio dice questo Domanda, una domanda, una cosa che non potrebbe mai fare in realtà nei titoli di giornali Ma lo fanno Come sta l'aria in Lombardia? Ma mette anche la risposta Il verdetto di Arpa Arpa dice che è malata Ma in miglioramento da almeno 20 anni Quindi in realtà forse è anche una percezione diversa Il primo giorno, 20 anni fa c'erano delle fabbriche che adesso non ci sono più Esatto, ma poi il cambio completamente anche del movimento delle auto Di tutto quanto, di tutta la tecnologia che è stata sviluppata Che ha prodotto comunque anche inquinamento o derivati Però il primo dato assoluto, l'allarmismo totale Milano è la città più inquinata del mondo Così ci siamo beccati questo titolo Perché poi quando te lo becchi la prima volta il titolo Non te lo tiri via più Perché poi puoi dire sì, è stato smentito e tutto quanto Quindi quando siamo, non siamo primi Siamo terzi, siamo quarti, siamo quinti Però è il primo titolo È quello che ti rimane Abbiato che piove Molti vi hanno preso l'auto Sentiamo com'è la situazione del traffico Quindi ci colleghiamo con Luce Verde Che ci dà la situazione del traffico In questo istante Sulla città di Milano E la provincia In giro intorno a città Ricchi e poveri ma non tutta la vita Avete visto che c'è in giro il tram dei ricchi e poveri? Certo C'è arrivata anche la foto Il tram dei ricchi e poveri l'ha fermata in Via Torino E un'altra cosa da dire sui ricchi e poveri Quando abbiamo guardato tutti l'elenco dei partecipanti di Sanremo Ovviamente abbiamo pensato Ah i ricchi e poveri C'è sempre la presenza di un vero big Però abbiamo tutti pensato Ma sicuramente la canzone dei ricchi e poveri sarà una canzone E invece la canzone dei ricchi Diciamo se siete anche razzisti Tipo sarà l'ultimo che a tu giro possono sparare Guarda te questi qua non hanno più saldi per pagare il mutuo Guarda te come sono ridotti E invece E invece ci hanno tirato fuori una canzone stile hub Già l'attacco è pazzesco E sta andando veramente bene Io sono convinto che se loro Non potevano vincere Perché comunque Però se avessero vinto E se fossero andati all'Eurovision Un risultato buono lo portavano a casa Sai che anche io ci pensavo Perché l'Eurovision Loro sono popolarissimi Sono quella roba dell'Eurovision Sai che cosa Non sono mai diventati gli hub Italiani e europei Perché non cantavano in inglese Però loro sono stati veramente famosi E sono famosi Un po' ovunque In Sud America In Spagna Con quella canzone Secondo me all'Eurovision Se vedete che lo sta dicendo Andrea Carchi Trovatemi una pizzeria in Europa Che non metta sui ricchi e poveri Non esiste Che non metta sarà perché ti amo Ma questa canzone sta andando bene ovunque No 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 infatti 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 Mahmood avrà anche il record Degli streaming su Spotify Così ma secondo me Io sono stato uno dei pochi italiani Dei dieci italiani A chiedere a mia figlia Ma che cos'è la tuta gold E a sentirmi dire Scusa ma non sai che cos'è una tuta Sì è una tuta gold Tutti hanno fatto questa domanda Anche a Mahmood Che nelle risposte dice È una tuta gold Cinque cellulari in una tuta gold Chissà quante tasche va questa tuta A proposito di Sanremo Tu hai Ho visto che hai pubblicato qualche tempo fa Una foto con Angelina Mango Sì allora io sono molto amico della mamma Di Laura Valente E Quella sera L'abbiamo fatta al teatro dal verme Quella foto lì perché La mamma canta nella polifonica nazariana E quindi quella sera Angelina Anche cioè Mancava Partiva il giorno dopo tra l'altro È andata a sentire la mamma C'era anche suo fratello Filippo Ed era lì Nel pubblico Io sono andato a fare una foto Insieme a lei A salutarla A farla in bocca al lupo Per Sanremo E sua mamma è sicuramente Una delle sue fan Più sfegatate Perché poi infatti adesso Ovviamente si ricorda sempre Il papà di Angelina Ma dobbiamo ricordare Che anche la mamma Laura Valente È un ugola niente male È una cantante straordinaria Un'insegnante di musica Ed è stata Una delle voci Dei Mattia Bazzar E mi ricordo Il duetto Quando ha fatto il duetto Nella serata delle cover Quando Mango partecipava A Sanremo Quando ha fatto il duetto Con Mango Emozioni E Pelle d'oca Lì hanno dimostrato Che veramente Era una forza unica Insomma qui forse si dimostra Che veramente il DNA Certe cose le fa Proprio fatte bene Esatto Laura è una persona straordinaria Di un'umiltà pazzesca 3317853555 Il numero di Whatsapp Potete scriverci Anche mandarci le foto Come appunto ad esempio C'è stata mandata la foto Del tram Dei ricchi e poveri Tutto bello Rosso e rosso Sai che non l'ho visto Non l'ho vista solo a fermata Mi dispiace No no Devi ricercarla Andrea questa è la missione Della settimana Trova il tram Il tram di ricchi e poveri Se non l'hanno già Trova il tram Non attaccarti al tram Trovalo Va bene Per chiedere ad ATM Se sanno la tratta Un GPS Sulla linea 1 c'è Quindi se ti metti a cercare Tutte le tram No faccio prima Ad aspettarlo Ti metti Tra una pausa e l'altra Perché questa settimana Dovrai seguire la Fashion Week Giusto? Sì questa settimana qui Quindi vabbè Più facile che lo veda Allora in giro Infatti Infatti secondo me Sarà Ma sai che cosa è la verità? Sarà lui Che viene a cercare te Sì E mi porterà Alla sfilata dopo Sfilata dopo E quindi seguite Andrea Kerchi Che ci racconterà Com'è viaggiare Sul tram Dei ricchi e poveri Ma non Per tutta la vita Andiamo con un po' di musica E poi torniamo qui Subito dopo Una piccolissima pausa Sempre con Andrea Kerchi Qui su Crystal Radio Good Morning Milano A fra poco Click Boom Rose Villain Questa è a palla Nella tua auto radio No Allora Rose Villain Quando ho letto I partecipanti di Sanremo Vabbè Io mi vergogno Sempre a chiedere in giro Chi è questo Quindi c'è mia figlia Perché tanto da lei Gli insulti Mi prendo continuamente Quindi Vittopedia Vitto scusa Ma tu conosci Rose Villain Sì perché tu no Subito Ancora Un'altra volta Devo spiegarti No no Sì ma l'ho già sentita Nominare papà Sai quelle cose No no Lei tra l'altro Mi aiuta anche tantissimo Con la Fashion Week Con i fuorisalone Quando ci sono Quando vedi Sai il capanello di gente Che raggiunge i vip I fotografi Tu dici E questo chi è Quindi tu foto Whatsapp Perché mia figlia vive Col telefono in mano Come il padre E mando la foto E lei mi dice il nome E io lo dico poi Tutti i miei colleghi Perché anche loro Loro non si osano Di dire Chi Non hanno una vita Non hanno una vita a casa Quello è il problema Esatto E alla fine Sì ci sono tantissimi ospiti Sai che ho fatto la stessa cosa A Sanremo Allora A casa Coca Cola A casa Coca Cola C'erano Un divano A casa Coca Cola È già impronunciabile Io ero sempre lì Casualmente Ero sempre lì A bere A sbaffo Casualmente Anche la pizza Anche la pizza Dopo le sei Sempre lì Ma C'era un divano Su cui tutte le sere Si affollavano Tra i quattro Stai influencer A raccontare La serata Al pubblico che stava lì Io ogni sera passavo Facevo Quando si erano tutti insieme Foto Manda a Erika Mandavo a mia moglie Chi sono E lei riusciva A identificarmi Almeno La metà C'è la ricerca Fotografica di Google Un po' Un po' L'aiuta Però Vittoria è più veloce Sì sì Sono più veloce Infatti mi arrivavano Anche La buona Viola Mi ha scritto Viola come si chiamava Quello lì Rocco T TNL Rocco TNL Giusto Io non so chi sia Tu sai Hai mai sentito nominare No assolutamente no Però possiamo chiedere Rocco del grande fratello Cioè io sono ancora Rifermo lì Rocco Casalino No possiamo telefonare a Vittoria La tiriamo giù dal letto Rocco TNL C'era Uno spilungone Un Marcantonio Duomo Che Viola ha detto Fai la foto Fai la foto 40 milioni di follower E tu quanti erai Ma 5 mili Io non sapevo minimamente Chi fosse Non avevo idea Di chi fosse Ma è un po' Il problema delle bolle No Siamo questa cosa Delle bolle Invece mi auguro Che sapete tutti Chi è Amerigo Vespucci Sì Perché oggi ricorre A una doppia data Legata da Amerigo Vespucci Perché nel 1512 Lui è nato No Lui muore Muore È morto Sì muore Muore Oggi 500 Nel 1512 Sì Ma oggi Nel 1931 Viene varata L'Amerigo Vespucci La nave Su cui poi Ci facciano anche Ma con Il varo Della contessa Serbelloni Mazzantini Del mare Riva di contessa Qualcosa del genere Credo Sì sì No che poi È una nave scuola La famosa nave scuola L'Amerigo Vespucci Giusto Il termine Che è stato cognato Tu sei una nave scuola Credo arrivi da lì Credo Si faccia anche dire Che è così E via Come fanno a smentirci Giusto Giusto Andate voi a chiedere A chi nel 93 anni fa Ha fatto il varo Comunque E pensa che questo È il massimo Che possiamo dire Di cosa è successo Oggi nel mondo No Secondo me Questo tu ci sei affezionato Oggi è nato Niki Lauda Niki Lauda Un grande campione Mi dite di essere uno Che ha seguito Niki Lauda Sì Niki Lauda Niki Lauda È uno di quei personaggi Che tutti sanno Chi è anche Un giovanissimo Perché sono quelle persone Che lasciano il segno Anche umano Non soltanto del campione E intanto all'uomo WhatsApp arriva anche Un saluto al mitico Andrea Credo che sia per te questo Ok Andiamo con la musica Alessandra Amoroso Adesso Sorriso grande Alessandra Amoroso Sorriso grande 7.40 minuti Sempre qui Cristian Radio Insieme ad Andrea Cherchi Stavamo parlando Fuori onda Che in questi giorni Abbiamo già visto Che stanno togliendo Le palme In Duomo Palme Banani E fioriture Vanno via Vengono ripiantati Bisogna subito dire Perché la gente Subito Cosa Tolgono Peccato Peccato Perché vanno via Così carine Cosa gli mettono Allora Allora Cominci a dire Ma perché le tolgono Stavamo affezionati E quindi capisci proprio Che la polemica Gratuita È sempre Detro l'angolo La più bella Quando arriveranno I boschetti Delle Alpi Biellesi Prepariamo Cosa c'entra Il biellerese Io avrei messo Una fontana Io avrei messo Io avrei tolto Il Duomo Avrei lasciato Solo la Ognuno dice La sua Ed è un guazzabuglio E pensa Quando arriverà La passerella Che unirà Laringario E l'altra parte Del museo Il novecento La gente Mi fa ombra Al Duomo Nel passaggio È uno scandalo Lì ci sarà Da divertirsi Secondo me Un progetto Secondo me Che se è fatto bene Invece sarà Veramente bello Unirà Due parti Della piazza In una maniera Molto molto Interessante Con una passerella Che deve essere Tutt'asparente Io ho letto Un commento Che ho tralasciato Mi ha lasciato basito Era un annetto fa Quando è uscito Fuori questo progetto E un signore Non si capisce Come mai Preso da che cosa Da quale demone Ha scritto Eh se fanno la passerella Poi non passano più Le ambulanze Io non so Come si è Immaginato lui Questa passerella Che credo Che sia tipo A 25 metri D'altezza Se non di più Quindi Chissà che ambulanza Ha visto la sua vita Ognuno dice la sua Per quello che magari Negli anni è tante Era più facile Fare le cose Perché non avevi Tu dici Che fosse questo Allora I social Tu ci pensi Che nel 64 Abbiamo fatto la metropolitana Io non c'ero Ma la metropolitana rossa Ha scoperchiato Praticamente una città intera Piazza del Duomo Che era un cantiere Ce l'ha aperto per anni C'erano solo due o tre giornali Non c'erano i social Non c'era Questa opinione La dicevi nel bar Però nel bar Non veniva amplificata Adesso con i social network Anzi nel bar Ancora diceva Dai Mucca la lenta Sì No ma litigavano Proprio alla grande Adesso sui social Si tirano i capelli Per qualsiasi cosa Ognuno dice la sua opinione Io penso sempre Che bisognerebbe essere preparati Quando parli male Non so di un progetto Dovresti essere Almeno un architetto Almeno un geometra Sì perché se no Si tratta di tutto Mi piace o non mi piace Che allora Quale è soggettivo Ci sta Sui social non si dice più Mi piace o non mi piace Quello sarebbe ancora Meno male E meno male Che Facebook Non ha mai inserito Il tasto non mi piace Sennò Terza guerra mondiale Mi ricordo Quando c'era questa idea Di metterlo Che insomma è stato Beh hanno capito che Secondo me Le prefetture d'Italia Hanno detto Qui c'è di mezzo L'ordine pubblico Perché se tu ricevi 40 E puoi vedere Chi ti ha messo Non mi piace E lo vai a beccare a casa Eh sì Io non andrei però Era un po' complicato No non ti ci vedo Andare a casa A cercare chi Anzi tu sarei capaci Di andare a chiedere Mi scusi ma perché Mi ha messo il minimo Puoi cambiare Mi puoi spiegare Mi puoi spiegare Dove ho sbagliato Guardi L'ho portato nel caffè Mi spieghi Ogni tanto cerco Di far ragionare Quando ci sono delle critiche Però vabbè Ma Cosa è che si cava Dalla rappa No ma ogni tanto Chiedo Ma sei un architetto Sei un No non lo so E allora perché dici così Perché sì Perché siamo Siamo l'America Siamo il paese delle libertà Come i consenzi Di telefilm Tu mi hai chiesto un parere Io te l'ho detto È spettacolare Mannini È spettacolare Anche il nostro Andrea Kerchi È spettacolare Il nostro Fabio No 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 Le tue foto sono spettacolari No che spesso Vediamo Sto ancora imparando Oggi che foto Hai già postata la foto Ho postato un glicine Con questa foto Che ho scattato tempo fa Auguro a tutti buona giornata Che mi è costato Lo scherno a vita Di tutti i miei amici Ma va bene Tranquillo C'è sempre chi fa Noi abbiamo sempre Paul Papi Io l'ho nel mirino Con il suo Ciao Milano Ciao Pol Ciao Milano Ciao Pol Oggi ho messo un glicine E pensa che Non più tardi di un mese fa Ho letto un commento Che mi ha divertito tantissimo Di una signora Scandalizzata Ma in senso buono Che diceva Ma sapete che ho scoperto Che Andrea Kerchi Posta anche delle foto Di repertorio Probabilmente Perché ho messo Una fioritura Ma lo scrivi Una foto scattata un po' fa E lo so Però la signora Era convinta Che io tutte le mattine Fossi in via Brera Come stamattina Col glicine No no signora C'è già il glicine Se ne accorta Perché è andata A vedere il glicine Non c'era E ho scoperto Smascherato A fake news E' stato molto divertente Ho anche risposto Però Però sì Almeno ripropongo Anche sempre le stesse foto Anche perché non sempre Tutti guardano La stessa pagina Effettivamente oggi Il glicine è un po' fuori luogo Sta piovendo C'è lo smog Non è da glicine No 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 Domani ti riempio di glicine La tua bacheca Noi ce l'abbiamo con il glicine Quando venire a fare la foto A glicine nostro Ti ringrazio Se vuoi che Quando fiorisce Perché l'anno scorso Non ha fiorito L'estate strana L'anno scorso L'anno scorso Ci sono state delle belle fioriture Però c'è stata tutta la polemica Di Bayamonti Eh sì Il glicine di Bayamonti Che non c'è più Infatti C'è ne un peccettino Se invece siete in giro In questa giornata Uggiosa Ma vi siete accorti Che non volevate Prendere la macchina Non volevate Prendere i mezzi Magari Dice prima Prendo il BikeMe Attenzione Perché Il BikeMe In questo momento Sta funzionando Per metà A Milano Perché Dopo degli incidenti Che ci sono stati Sono state ritirate Dal servizio BikeMe Alcune e-bike Quelle pedalate assistita Per intenderci Il gestore dice però Comunque Che dalla prossima settimana I mezzi saranno Di nuovo In strada Quindi Attenzione Se potete usare il BikeMe Non c'è tutto Il sentimento più grande Di stamattina era Rimango a casa Telefono Dice Dice Non posso usarlo Non posso usare il BikeMe Non sto tanto bene Ah va bene Ricordiamo che domani Invece c'è In programma Uno sciopero Ma non dei mezzi Di Milano Quindi niente Chi sciopera E Trenord Avrà delle piccole Momenti In cui Invece Potrebbero esserci Di rallentamenti Non dovrebbero esserci Che poi voi dite Vabbè che novità Sucita sempre Molta ironia Quando dicono Ci potrebbero essere Dei minuti di ritardo Ma lo dichiarano Solo in questa occasione Infatti Io ho l'app Di Trenord E tutti i giorni Arrivano delle notifiche Ma poi cose Cambiamenti Scrivono Non so cosa vuol dire Così Ritardi È la nuova parola Per treno soppresso Ah ecco Cambiamento Quello è un bel tema Tu non hai mai fatto Il pendolare Con i treni No però Sento di persone Sono amico di persone Che vengono da fuori E vivono Ogni tanto mi mandano L'altro giorno Ho ricevuto La mortara Una foto Una foto da pavia Treno soppresso E mi ha mandato La situazione Mi ha detto Andrea Una foto Che si intitola Inferno Perché tu hai Magari in mente Il diavolo Con le corna Con la coda Invece il vero inferno È qui E mi ha mandato Questa foto Era veramente agghiacciante Immaginato Che in quella foto Non ci stava tutto Però Se avesse potuto Farne quattro in fila E insomma E questa è un po' La situazione Che poi ci dicevano Ah no Non usate la macchina Ma poi È complicato In alcune circostanze Vemente si arriva La pavia Da mortara Vigevano Quella zona Di sappiamo Essere una Con i più alti ritardi Anche Treviglio Bergamo So che Leggevamo Stima la scorsa Dal repodi Legambiente Sembra strano Perché comunque I collegamenti Sono buoni Sulla carta Ci potresti mettere Non so Treviglio Milano 40 minuti 35 minuti E magari ce ne metti Due ore Perché non si capisce Come mai Fermo ovunque Vince sempre Comunque sulla macchina Perché l'A4 È sempre imballata Quindi da quel punto di vista È facile vincere Sulla 4 puoi fare di tutto Perché sei sempre fermo Quindi potresti anche Scendere E fare amicizia Con gli altri Cuocere Cuocere Una braccia Sul tetto della macchina Senza problemi Usare il portapacchi Come barbecue Volendo Se non è qualcuno Già già pensato Comunque Se invece Volete rimanere qui con noi Noi siamo ancora qui Andrea Siamo arrivati Alla fine della prima ora Io ti ringrazio No grazie Ci vediamo Ci vediamo giovedì prossimo Dai Siamo sempre qua Pronti Ad avere Good morning Quindi posso sempre suonare Anche le 5 del mattino Mi aprite Non c'è problema Lo stacchiamo Non suono a Milano Il musico Suono a casa tua Suono a casa mia Ma andate lo stacchiamo Il citofono Tiro giù la corrente Fate bene Fate bene Grazie mille Andrea Kerchi Allora seguitelo su ovunque Perché c'è Facebook Instagram X Vai a Twitter Vai al supermercato Il prezzemolo Quello è Andrea Kerchi Lo compro Lo prendete E vi rifate la vista E il cuore Con tutte le sue bellissime foto Anche con il glicine di oggi Il glicine di oggi un po' Ma secondo me c'è già qualche glicine in giro Andiamo a cercarlo Vai a cercare il tram Mi raccomando Il tram dei ricchi e poveri Vogliamo la foto dei tram dei ricchi e poveri Compito a casa Per Andrea Kerchi Torniamo a Sanremo Con Joliet Con Ipame Tu per te Tears for Fears Con Shout Questo è il Crystal History delle 8 Bentornati qui su Crystal Radio Bentornati a Good Morning Milano 3317853555 Ma è giovedì E il giovedì si parla di teatro E lo facciamo con la nostra graditissima ospite Tamara Malleo Buongiorno Tamara Buongiorno a te Fabio Buongiorno a Viola e a Maria E alle altre ragazze che sono di là in regia Buongiorno agli ascoltatori e ascoltatrici Di Crystal Radio e di Good Morning Milano Torniamo a teatro Anzi spero che La vostra pratica teatrale settimanale sia Insomma già fatta o la farete La nostra abitudine Esatto La nostra abitudine in realtà Giusto E proprio per alimentare questa abitudine Abbiamo tre proposte In realtà abbiamo tre proposte E una chicca finale Diciamo così Così Cambiamo Aumentiamo l'abitudine Allora Iniziamo subito con degli spettacoli Che come stai Sono a me molto affini Quindi con temi Non particolarmente leggeri per il mattino Ma sappiamo che Il teatro deve entrare dentro dei temi complessi Per permetterci di riflettere Attraverso gli strumenti che il teatro ci dà Andiamo al teatro della cooperativa Che abbiamo appunto ospitato anche la settimana scorsa Nel tuo spazio con Chico Dossi Che fa l'assistente alla regia Al nuovo spettacolo Che non è uno spettacolo nuovo Ma che riporta in scena Renato Sarti A Osmerzen Vite indegne di essere vissute Sarà in scena al teatro della cooperativa Quindi zona di guarda Fino al 3 marzo Ed è uno spettacolo di Marco Paolini Mario Paolini Michela Signore Giovanni Di Martis Di alcuni anni fa Con la regia Le scene dei costumi di Renato Sarti E vede in scena Renato Sarti Con Barbara Apuzzo Ed è una storia anche questa Non molto conosciuta Ma che in realtà Ha un grandissimo valore Nella nostra storia Che quindi noi tutti dovremmo conoscere Perché si parla Dell'azione T4 Il primo sterminio di massa nazista L'eliminazione di 70.000 tedeschi Fra malati mentali Portatori di handicap Disabili e bambini affetti da malformazione I cosiddetti fardelli inutili Questa azione T4 È fondamentale da conoscere Da comprendere Perché in realtà Il nazismo parte Da un'idea di igiene Di razza E quindi Che poi appunto Si è diffusa E si è Trasformata poi In una Diciamo così In una Appunto In uno sterminio Molto più ampio E molto più complesso Però partiva da questo Cioè partiva addirittura Da una Pulizia di razza All'interno Della razza tedesca Per cui C'era La volontà Da parte di Appunto Medici Tedeschi Di pulire La razza E di Scegliere Chi poteva vivere E chi non poteva farlo Che è agghiacciante Pensarlo Cioè Parlandone così Ma In molti Questo processo Quindi Quest'azione di T4 Non la conoscono Non la conoscevo neanch'io In questi termini Inizia ben prima Dei campi di sterminio Che conosciamo Perché appunto All'inizio Del 39 e 41 Mi sembra più o meno Esatto E le pratiche Che sono state utilizzate In questa Diciamo In questo atto All'interno Del Appunto Del Del popolo tedesco Sono stati poi utilizzati Per I campi di concentramento Quindi È veramente Un'azione Impossibile Da poter pensare Ma che in realtà È stata realizzata E quindi Renato Sarti Che noi sappiamo È attentissimo Al recupero di una memoria Che ci possa permettere Di comprendere Dei meccanismi Perché C'è anche da dire questo La storia va Studiata anche attraverso Quello che accade In profondità Non attraverso Soltanto le azioni Che succedono Perché tutte le azioni Arrivano da qualcosa Di molto più profondo E molto più lontano E che ci deve portare A riflettere anche A delle Esasperazioni Che accadono Anche oggi Chiaramente Facendo I dovuti Confronti Ma Bisogna stare attenti A fare queste riflette A vedere Quello che sta succedendo Intorno a noi Non a chiudere gli occhi Ma a vedere Quello che realmente accade E quindi Lo spettacolo di Renato Sarti Ausmerzene Vite i degni di essere vissute È già in scena Fino al 3 marzo Al teatro della cooperativa Altro tema Molto caldo Da sempre E diciamo così Continuerà ad esserlo È il tema del lavoro Su cui ha voluto creare Uno spettacolo Francesco Alberici Che è un giovane Autore Attore Premio Ubu 2021 Come miglior attore Under 35 Per tanti anni Ha fatto parte Della compagnia Fregoproduzioni Portando in scena Alcuni spettacoli Molto originali E adesso Ha deciso appunto Di scrivere questo spettacolo Che porta In scena Con Con Si chiama Bidi Bibodi Bibu Con appunto La regia E la dramaturgia Di Francesco Alberici In scena ci sono Francesco Alberici Maria Harris Salvatore Aronica Andrea Narsi E Daniele Turconi Si racconta la storia Di due fratelli Una madre E uno dei due fratelli Vive una situazione Di disagio All'interno Dell'ambito lavorativo Vive delle situazioni Di grande stress Che influiscono Sul suo equilibrio Mentale E fisico Si parla di quanto Il lavoro Influisca Sulla nostra vita Di quanto Noi siamo Il nostro lavoro Di quanto La società Ci permetta Di stare all'interno Di un contesto Perché lavoriamo E Anche di quanto A volte Non comprendiamo Dei meccanismi Che si instaurano All'interno Di un posto di lavoro Perché c'è Un senso di colpa Perché c'è Una Proiezione Di Desideri Di volontà Che arrivano anche Dall'ambito familiare Da un ambito sociale Quindi è uno spettacolo Molto interessante Pensa che lui È partito Da un'immagine Anzi da un'opera Di Cattelan Che si chiama Bdb Body Bb Dove c'è Uno scoiattolo All'interno In un interno Casalingo Degli anni 50 Che si è appena Sparato un colpo In bucca Però insomma Fai che i miei temi Però è interessante Questa commissione Tra le due arti Cioè Tra l'arte appunto Di Cattelan A quest'opera Di Cattelan E poi Ha scritto lo spettacolo Ha realizzato Il suo spettacolo Ma come terzo spettacolo Sì Cosa ci porti Invece Andiamo Nel mondo Della Follia creativa Di Loris Fabiani Che è un autore Autore che noi conosciamo Di cui vi ho già parlato Che con il suo Cinema al teatro Che è un formato Originale Di film Teatralizzati In 20 minuti Quindi film Che insomma In 20 minuti Raccontano la trama In questo caso C'è una nuova serie Che si chiama Lezione di Pirlates Vi aspetta Ad area Zelig Dal 26 e 27 di febbraio Quindi lunedì E martedì Appuntamento imperdibile Con Loris Fabiani Si vide in maniera Molto intelligente Molto divertente E poi soprattutto Lui ride Con il pubblico E non sul pubblico Ah Che insomma Ultimamente A volte si fa Questo errore Di preposizione Diciamo Ogni tanto si fa Diciamo che Lui invece È proprio Secondo me Uno degli attori Che più di tutti Coinvolgendo il pubblico Perché sui spettacoli Sono di grande coinvolgimento È molto autoironico E soprattutto Ride insieme Al pubblico Non sul pubblico Quindi ridicolizzando Il pubblico Dicevi doppio appuntamento Per lui Giusto? Sì 26 febbraio 27 febbraio Ad area Zelig Quindi via Le Monza Perfetto Quindi anche quello raggiungibile Sulla Martesana Sulla Martesana Sulla Martesana Sì 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 Quindi chiudiamo col sorriso Bene Il teatro deve sempre far riflettere E anche Loris Fabiani Col suo cinema al teatro Fa comunque riflettere Però Perché secondo me Per me il pensiero Si deve unire Alla risata E al pianto Ci sta Sono le emozioni Che vanno Sono vissute Posso chiudere con una cosa? Vai vai Prego Prego Chiudo con una poesia Di un attore Ok Mi sono ispirata A Carolina Capria L'ha scritta una femmina Se volete seguirla su Instagram È una pensatrice È una scrittrice Quindi Lei apre le giornate Con delle poesie Mauro Lamantia È un attore Vi consiglio di seguirlo Un attore che adesso In questo momento È in tournée in Sardegna Con Edipo Re Una produzione Del teatro del Fopuccini Ha scritto un libro Che si chiama Formulario È un libro di poesie Perché la poesia È una pratica Che ci Aiuta Nella vita quotidiana E vi saluto Con queste parole Grazie Aspetta Facciamo così Io ti ringrazio Ti saluto E lascio proprio La chiusura a te Così che poi posso sfumare Con una fiorella mannoia Dopo di te Ti piace come idea? Bellissimo Potrei chiedere di me Ok allora Nella mia osa giornata Vorrei nascondermi Dietro un dito E dire che sì È vero che non mi si vede Così se passa qualcuno Non ci farà caso Che io lì Nell'angolino Guardo a terra Sarà per un po' Giusto il tempo Di prendere il respiro Fiorella mannoia Mariposa Direttamente da Sanremo Grazie ancora Tamara Malleo Per i suoi contributi E i suoi consigli teatrali Grazie anche per questo Bellissimo finale Poetico Che ci fa partire La giornata Nel migliori Delle maniere Insomma Non è mai facile Capire come affrontare Una città come Milano Tutte le mattine E dobbiamo usarli tutti Gli escamotage Anche magari affidarci Alla poesia E alla voce Di Tamara Malleo 33178535555 Noi adesso Andiamo a fermarci Per un attimino Un paio di canzoni Qualcun consiglio per gli acquisti E poi torniamo qui Perché abbiamo incominciato A contare E siamo incominciati a contare Milano Cosa succede? Cosa significa? Che abbiamo incominciato A vedere che Milano Ha delle cose che si possono contare E da quei numeri Raccontare delle storie Chi lo fa? Beh la nostra Viola Subito dopo il piccolo Piccola pausa Qui con Viola E la Milano Che conta Tiziano Ferro Con Rimmel Alle 8 e 34 minuti Ma ve lo avevo detto Adesso siamo arrivati A una nuova rubrica Qui a Good Morning Milano Perché c'è una Milano Che conta E una donna Che conta Con lei E la bionda Che conta Qui per noi Continua a ridere Ma perché ridi? La tua sigla Viola La nostra producer Ciao a tutti Buongiorno Grazie Fabio Per questa sigla Che è davvero Favolosa Perché è la Milano Che conta Cioè cosa contiamo? Contiamo cose Giusto? Sì esatto Ogni settimana Conto qualcosa Allora Siccome settimana scorsa Avevi già parlato Della rimessa nuova Della vedovella madre Quella in piazza della Scala Che verrà restaurata Tra l'altro L'articolo dice Che sono iniziati i lavori A febbraio Il 12 febbraio Quindi mi sono chiesta Quante vedovelle Effettivamente ci fossero a Milano Ok Quindi quante fontanelle Ci sono a Milano? Allora 580 in totale 580 vedovelle Tante Tante Tra l'altro tutte Di acqua potabile Giustamente sì Ci sono tranne una E devi scoprire Qual è quella Che non è potabile Le ho provate tutte Anche queste Le ho provate tutte No no 580 vedovelle No Allora Vedovelle ovviamente Perché? Perché ricorda il nome Ricorda il pianto Di una vedova Dal getto d'acqua Ma vengono chiamate Anche draghi verdi E ho scoperto perché Perché il simbolo Dei visconti Dello stemmo Dei visconti Ha una specie Una specie di biscia Ok sì Il biscione Esatto Esatto E quindi da quello E poi dopo dal bischio Ne ha del drago Però comunque Partiva da quella roba lì Esatto E ovviamente Quella della scala È la più vecchia La più antica Nonché la prima E una curiosità Importante Secondo me Che è l'unica Di bronzo Perché tutte le altre Sono in ottone Questa è l'unica L'unica di bronzo Però ho 100 anni Con te che hai resistito Vabbè Stanno restaurando Però sì 580 Però sono tante Sono tante Non pensavo così tante Sì Sono un bel po' Le ho provate tutte Dove si beve l'acqua più buona Ma quella della scala è buona La scala c'è il suo perché Sarà l'ottone Eh sarà un po' Sì è vero Sarà quello Sarà quello Poi ci sono anche Quelle a City Life Che sono un po' diverse Abbiamo visto invece Che hanno le bocche diverse È vero L'unica L'unica sì Che era diversa Quella in City Life Che tra l'altro Anche quella Recentemente è uscito L'articolo Anche su quello Quindi in totale Abbiamo Mi hanno detto 580 580 Vedovelle Insomma Questa è La Milano che conta Tutte le settimane Cercheremo di darvi Dei dati così Partendo da un po' Di numeri Cosa ci possiamo aspettare Alla settimana prossima Volevo provare a raccontare O la lunghezza Di binari del tram A piedi vai A piedi sì In una settimana Forse ce la faccio Se cominci oggi Ce la fai sì Sì oppure le stazioni Della metro Quante fermate ci sono Quante stazioni Della metro ci sono Esatto Secondo voi 33178 53555 Vediamo se lo indovinate Ve lo diciamo Stima la prossima Sì esatto Ok va bene Va bene Viola Grazie allora Prego Grazie a te Grazie a Viola E ai suoi conti Facciamo tornare Questi conti Dobbiamo fare in modo Che i conti tornino E andiamo avanti con la musica Perché adesso invece È il momento di San Giovanni Con Finiscimi San Giovanni Con Finiscimi 8 e 40 minuti Cristiano Radio Good morning Milano Vi devo darvi sempre Queste coordinate Così che non vi perdiate Sappiate sempre Dove vi trovate Qui sui 96.2 FM Sul Dub Plus In tutta Lombardia Sul app per iOS e Android E anche sul sito Internet cristianradio.it Ma anche vi ricordo Il sito internet Goodmorning.milano.it Aggiornato in tempo reale Tutti i giorni Con tutto quello Che avviene appunto Nella nostra trasmissione Tutti i vari pezzi Tutti i vari ospiti Le varie curiosità Troverete anche La Milano che conta Di Viola Che settimana in settimana Ci darà dei numeri Darà i numeri In poche parole Viene qui non da dare i numeri E' questo che succederà Però ci darà i numeri Per capire meglio Questa città Città che vede Anche notizie Arrivare dal Corriere Della Sera Milano Notizia Abbastanza particolare Perché dice Shopping Milano È la meta preferita Dai turisti Pensate ci sono Ormai turisti Che vengono a fare Ovviamente Shopping a Milano Ed ecco perché Dal lusso Di Monte Napoleone Alle botteghe Delle Cinque vie Dal quadrilatero Della moda Alle botteghe storiche Fino ai centri commerciali E sono soprattutto I francesi Che arrivano in Italia Per fare acquisti Non so più Quella famosa Che non so se era vero No? Una leggenda metropolitana Degli aerei charter Che dall'Inghilterra Arrivavano direttamente A Bergamo Per andare a fare Shopping All'Oreo Center E poi tornare indietro In Inghilterra Sotto in Inghilterra Dicevo Da Londra Da quelle zone lì No? Non so se Forse In realtà I dati invece Dicono che I francesi Che arrivano in Italia Con l'obiettivo Dello shopping Scelgono Milano Come meta preferita Mentre invece Gli americani Predeligono Roma E in seconda battuta Invece Il capologo Lombardo Credo che sia Anche per un discorso Di collegamenti Più facili Con la Francia Piuttosto che Con gli Stati Uniti Milano Credo che Siete a Parigi In Francia Lione In un attimo Comunque Ci sono Tutti delle Statistiche Sul Corriere della Sera Che potete andare a vedere In questo articolo Appunto di oggi Di Firma di Elisabetta Andreis Che Vi fa capire Come Tantissimi sono anche Gli italiani Che Scelgono Milano Per venire a fare shopping Quindi da altre regioni Da altre città Ma che Vede il 46% Del Il 41% Dei francesi Sceglie Invece Milano Come meta Per il Proprio turismo Come si può chiamare Turismo D'acquisto Turismo Di shopping Il fatto che sicuramente Milano dà anche Una grande risposta A tutto quello Che si cerca Corso Vittorio Emanuele Monte Napoleone Le botteghe storiche Ma poi diciamo anche I vari Fashion City Outlet Scalo Milano Tutte quelle Grandi Situazioni In cui appunto Si può andare a fare shopping Anche magari A prezzi convenienti Che magari sono ancora più convenienti Per chi viene qua A fare Turismo Milano come sempre Molto molto attrattiva E attrattiva Su tantissimi Tantissimi punti Di vista Questo non avevamo Nessun dubbio Coma cose Post Con Certo E molti Magari Questa mattina Si sono ritrovati A doversi svegliare Presto la mattina Magari Dopo un concerto Dopo un post concerto Un po' la mattina È sempre un post concerto Bisogna magari anche Pensare A un A un restauro Personale Tutte le mattine Prima di uscire Beh sappiate Che siete in buona compagnia Non siete gli unici A dover affrontare Un restauro tutte le mattine Ma anche Palazzo Marino Vedrà Restaurata la propria facciata Anzi le proprie facciate Ebbene sì Leggiamo da Corriere Milano Palazzo Marino Via al restauro Delle facciate E rose E annerite Dallo smog I lavori Finanziati da TODS La sede del Comune di Milano In uno stato di deterioramento visibile Si partirà con la pulizia Delle superfici La prima area interessata Sarà quella di Piazza da Scala E il termine Previsto da tutto quanta L'operazione È per ottobre 2025 Quattro fasi Ci saranno Del cantiere Che vedrà Mettersi A ruotare Intorno Al palazzo Si parte con la facciata Su Piazza della Scala Per poi Andare su Via Caserotte Per intenderci verso La casa del Manzoni Per intenderci da quelle parti lì Poi si passa sul retro Che è Piazza San Fedele Per poi chiudere Con la parte invece più vicina Alla Galleria Vittorio Emanuele Che è Via Marino Quattro fasi All'incirca Quattro mesi Per ogni fase Si parte con la prima fase adesso Perché fa aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Su Piazza della Scala Perché è così Che a dicembre Quando ci sarà la prima della scala La facciata Del Di Palazzo Marino Che da quella parte Sia pronta E quindi Ancora più bella E ancora più bella Da vedere Anche nella diretta Rai Nelle vostre foto Insomma Chi arriverà Il 7 dicembre Per la prima Per la prima Della scala Insomma Avrà anche Un Palazzo Marino Tutto d'eccellenza Di fronte a sé E ne monti con la musica Adesso Ci sono Gli NSYNC Però Gli NSYNC Con Justin Timberlake In Better Place NSYNC Justin Timberlake Una riunione Da altri tempi Qui sul finale Di Good Morning Milano Pochi secondi Prima Della consuetà E abitudinale Abitudinale si può dire Non lo so Non credo Comunque Della nostra sigla 8 e 54 minuti Giovedì 22 febbraio Volge il termine Questa puntata Di oggi Di Good Morning Milano L'appuntamento quotidiano Qui su Crystal Radio Con le notizie di Milano Gli ospiti di Milano Tutto quello Che viene raccontato Sulla nostra città E che rende così Appetibile Abbiamo detto Anche ai turisti Che vengono a fare shopping Appunto La nostra amatissima Milano Dopo di noi Ambrogio Curti Con Senti questa La musica internazionale Nazionale Raccontata dalla bravissima 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 E competente voce Di Ambrogio Curti Cioè se non sapete Una cosa sulla musica Chiedete a lui Lui la sa Insomma Quelli bravi Che devono fare la radio Sempre Non come me Che insomma Sono qua a raccontare A leggere i giornali Comunque Se avete voglia Di farmi compagnia Domani mattina Sono ancora qui E io sono ben contento La vostra compagnia La vostra compagnia Il sale La linfa vitale Di questa trasmissione Che tutte le mattine Dalle 7 alle 9 E qui Su Cristiano Radio Good morning Milano A domani Ciao Ciao